Musica Bene ragazzi qui non è bentornato in questo nuovo video Oggi video speciale Come saprete ne faccio pochi e raramente di video di questo tipo Ma a sto giro c'era la possibilità di fare un video divertente Diverso dal solito e comunque che rimanesse dentro le cose che faccio abitualmente Tra l'altro per l'occorrenza parlavo col Gabbone E ne è uscita fuori una mezza scommessa della serie che secondo me no Per lui si Se questo video arriva a 30.000 like Lascerò a lui la possibilità di umiliarmi Scegliendo per una settimana la mia nuova foto profilo di ogni mio social Anche se tanto sono convinto di vincere Per il resto parliamo del video che andrete a vedere oggi Allora due mesi fa ho ricevuto un nuovo smartphone Che è questo Che è il OnePlus 6 E in questi due mesi ho avuto modo di provarlo Testarlo perché è lo smartphone più potente al mondo al momento Ne sono rimasto molto soddisfatto Tanto che ad oggi è il cellulare che uso Cioè ho lanciato via quello vecchio E quindi sono anche felice di parlarvi e farvi vedere un prodotto valido e di qualità Ha infatti 8 giga di ram e il nuovo processore snapdragon octa core C'ha la modalità di gioco che vi permette di abbassare la latenza Togliere le notifiche Potenziare la prestazione del cellulare in sé Che è tra l'altro una cosa che mi servirà oggi per il video che andremo a fare Infatti oggi per testarne le sue effettive capacità Andremo a provarlo sul gioco che tecnicamente è il più pesante da far girare su smartphone Ovvero Fortnite Che tra l'altro è un gioco che deve ancora uscire per Android E sono riuscito a prendere la beta A aver l'accesso anticipato Quindi giocheremo Giocheremo perché non sarò da solo Giocherò contro gli altri di Melagodo Quindi Gabbo, Deilu e Marza In un tutti contro tutti In parco giochi Tutti da mobile Perché per chi non lo sapesse Giocare su mobile a Fortnite È difficile Farà troppo ridere ragazzi È un dei bot mostruosi È uscito veramente divertente Quindi io vi lascerei il video Spero che comunque possiate apprezzarlo Un video diverso dal solito ogni tanto È anche stupido dire di no a certe occasioni che capitano Cioè mille no Un sì ogni tanto su una cosa che mi avviso non vale la pena Che mi permette anche di fare un contenuto carino e divertente Ci sta Vi lascio al video raga E buon divertimento Aspetta aspetta che mi metti in modalità try harder Metto il telefono sdraiato per terra E uso tutte e cinque le dita delle mani Cazzo Sarà bruttissimo perché il nostro cervello Si muoverà troppo più velocemente delle nostre mani Il ninja di Bari Forbacco E Gabby Square Che senso faccio i 360 perfetti Oh ma perché sono così forte ovunque Tra 20 minuti Mi parte il mignolo sinistro Perché lo sto contraendo troppo Per far questa cosa Ma che cazzo uso il mignolo scusa No no perché è sottopiegato Non lo so Ah ok Ma appoggerò la scrivania Ragazzi siete pronti al video più autistico Si porco 2 Chi è che è sopra il tetto Chi è che è sopra il tetto Vabbè da poi Ancora devo arrivare Finita ragazzi Ho il cecchino Ho il cecchino viola Chi è sto babbo di minchia Delu Madonna non so mirare Mi stai seguendo Mi sento un coglione Te l'ho detto zio Sta scappando Dove cazzo Che il tuo cervello va più veloce Sei una merda Non riesco So che cosa devo fare Ma non riesco a farlo Eh te l'ho detto fra È il cervello che non si collega AAAAAH SPA Seeeee Ahahahah Aspetta aspetta okay Che cancer Voglio scappare Fatemi morire no 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 Aspetta raga proviamo a prendere alla mano Un attimo Vi trito Ma dove siete Chi sta costruendo qua Oh Chi è che costruisce Fra Sei un animale portati Guardali Ragazzi Ma non capisco un cazzo Ma come fate Ma io che cazzo li farmo a fare i materiali Che non so costruire Io mi immaginavo dei build fight mostruosi Ma che cazzo ti sei immaginato Vedi le traveco Sento dei passi in giro Puttana Eva che cazzo stava per succedere Teo Zii mi stai facendo una paura Sì Gabi square Sì Ma Marzone dov'è Ma io che cazzo ne so Sto in cima a qualche No puttana Eva sono caduto No 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 fra 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 Che cazzo vuol dire che costruisci così veloce Sì Questo save merita Easy Dai Easy cosa come ti permesso Ma no mi puoi far salire il crimine Easy Oh Easy Easy sentilo Easy Chi Easy? Ma fatti i culare Easy Dove siete raga? Per terra In giro Guarda chi è che sopra porta porta No che porta porta Oddio quanto danno ti ho fatto Ragazzi no eh Chi sei che mi spara ostia Easy Marzone ma dai ma sei buggato Di ancora Easy Dai di ancora Easy Facile Di facili costumi Oh oh Sei Marzone Vabbè ma stai camperando pure tu il telefono No Dai sei una merda Delu Bastardo stavi camperando in altro Cercando di tumorare Avevo dieci di vita fra Non potevo venire a challenge È impossibile salvarsi poi Sono salito su col rampino 14 minuti ci ho impiegato per salire su col rampino Infatti tutto il tempo che eri in silenzio Come si spara raga Come si spara Come si spara Easy Minchia che velocità di costruzione Io ho finito i materià Fra no col cecchino da lì sopra Ma come cazzo fai Fra non si fa così Fra Fra C'ho la disabilità per reggere ste cose Sono più io È Marza Non mi curva Non ho vienuto il computer Lo faccio muovere Il campo vuoi salire per cazzo Marza basta basta Marza Oh mio dio ragazzi Che palle questa vita di merda No No Megusta E' il salvataggio più difficile della mia vita ragazzi Volevi uccidermi così con un bel me gusta bastardo Ho finito i colpi Teota Godo Ho finito i colpi veramente Non mi ricarica l'arma Ma che cazzo ho costruito prepararmi il culo qua ragazzi No Marzo No Marzo Qua l'è vicino Sì Ma dai Questa è di classe Marzo Ho resistito all'infinito in una posizione veramente brutta Dai che il Marzone ha difficoltà ad ambulare Non ti deluderò Power Ce la farò Dai che è in difficoltà cazzo Facciamo di pressing Dai che c'ho uno di vita Marzo Con uno di vita non mi puoi scappare Non volete capire una volta per tutte che Gabo di Squared E' più forte di tutti anche su computer Basta Pagli Super Basta Prendi un cazzo fino a domani matti Uno di vita ho Allora è il momento di andare a rompere i coglioni Bello c'ho uno di vita Fra Dai perché non c'era la visuale Questo urlo che suono ha fatto Perché non mi gira la visuale Duccia forbacco Merda Sto cascatando dalle scelle Anch'io sono tesissimo raga Dai fammi luttare Tu amare cazzocca Dove sei? Brutto bastardo E' facile così quando tu devi luttare Oh no raga no Non me l'hai detto Gabo Mi diranno luttare invece Mi sei sceso davanti a Mi sei skill ormai là No basta basta no non vado più basta C'è voi un piccone Mi sei Dai cambiami il materiale Il materiale Perché c'ho il materiale Oh raga però Cioè io ho visto gente giocare verso il cellulare che è mostruosa Come fa? Dove siete raga? Trump Tower Sì Dai però basta è un camper di merda Chi è questo? Oh tu Non riuscivo ad andare sotto Gabbo sei sopra di qua Oh mio dio Tu ho visto dar dentro a cosa camperardi No mi stavo prendendo una pozzetta Sono uscito e ti pensavo sopra le scale Mi hai fatto infartare fra Mannaggia Guarda che c'era Dele Lui che mi seguiva Esatto Mi stai seguendo Memo Oh ma chi è questo? Oh L'ultimo colpo E' stato lo scontro più disadattato della storia Io che lo guardavo Lui che mi cambiava in faccia E io poi dopo No chiuso il gioco Va bene Perché? Perché? Ragazzi Ma stiamo toccando delle note mai sentite dal mondo Comunque No fra mi la fossi perché? Mira Delle note mai viste Ragazzi è più difficile del previsto Oh mio dio Molto bene Vai vai Gabi squared Dai C'avevi lo scudo Guarda chi è che mi ha tirato le Questo è Dele Quando due combattono Tira le granate Dai Marzo Sei col pompa Contro me con il cecchì No il telegui No regà Ditemi che non è vero Non lo so C'è la Marzone Non lo sto vedendo veramente Non lo sono io È Gabbo Stavo mettendo le pedane Scimmia idiota Che cazzo ne so Marzo Mi ha colpito Una tecnica avanzata da imparare qua ragazzi Che cantina Cantinare su mobile ragazzi è scorretto Ve lo dico Dai Non è vero Non è vero io sono super Stai zitto Gabbo frigna Io sono iper uber corretto Tu sei uber e basta Non ti chiamo figa Ammazzatevi Siete sono invidiosi dei miei capelli Allora boh What? Bello Mi direi grazie che non sono murale ma pure qua vieni outplayato Con il senno di poi siamo ninja voglio dire Ma Gabbo ma sei un tumore Ma ma delu cazzo sei non quello che voglio uccidere Gabbo la prende bene comunque ci sono almeno 8 episodi in questa partita Eh basta Game over Riff Bar Teo Ragazzi Ragazzi una persona così ignobile non me la ricordavo 16 13 12 9 ci sta Signori abbiamo finito E' stato complica Ecco E' tempo neanche di cambiare arma E' finita così Speriamo che il video vi sia piaciuto Qualcosa di diverso Vi ricordo che c'è una scommessa Spero che Gabbo non la riesca a vincere Perché altrimenti potrei rovinarmi per una settimana Io spero di sì Potrebbe rovinarmi una settimana di vita Io ringrazio Deilu, Marza e Gabbo Ci vediamo a un prossimo video Bella Bella Ciao mamma